Buonasera a tutti, benvenuti all'edizione settimanale del Tg di Quotidiano Immobiliare, vediamo quelli che sono stati gli avvenimenti più rilevanti della settimana. Passiamo ora a parlare degli agenti immobiliari e della rivoluzione che riguarda il nuovo patentino che sarà introdotto a partire dalla prima metà del 2012. Paolo Righi, presidente della FIAIP ha espresso la piena soddisfazione per la prossima entrata in vigore del patentino per gli agenti immobiliari, una novità ben accolta dall'associazione che si è prodigata da più di un anno nella lotta per la regolarizzazione della professione a garanzia sia dei clienti sia degli agenti che operano regolarmente. Entro maggio dunque questa novità sarà reale dopo la pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico avvenuta in data 13 gennaio. Gli agenti immobiliari che sono operativi avranno un anno di tempo per adeguarsi sia per quanto riguarda il tesserino che per la scia di inizio attività. Secondo Righi questa procedura aiuterà anche a eliminare il sommerso. Diamo atto al governo, ha detto il presidente della FIAIP a Quotidiano Immobiliare, perché ha saputo recepire le istanze degli agenti e percepire il cambiamento in atto ed è anche alla nostra federazione perché ha fatto un grosso sforzo e dimostrato una grande compattezza in questa battaglia.